Luca Argentero. La notizia giunta in redazione pochi minuti fa. Un gesto bellissimo. I fan emozionati. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Dal prossimo febbraio, il carismatico attore Luca Argentero sarà protagonista di uno spettacolo teatrale toccante e coinvolgente, intitolato, È questa la vita che sognavo da bambino, scritto da Gianni Corsi ed Edoardo Leo, che ne firma anche la regia. Le prime tappe di questo emozionante tour saranno a Torino, 12-13 febbraio presso il Teatro Colosseo, e a Milano, 17-18 febbraio al Teatro Dal Verme. Ma Luca Argentero non è solo un attore talentuoso. È anche un papà premuroso e, come dimostra un recente gesto, un uomo di cuore. Mentre parla del tour, ha condiviso un dolce invito per i suoi fan. Molte date devono ancora uscire. Ma se vuoi venire a Torino o a Milano sarò felice di ospitarti. Una ragazza, impossibilitata a comprare un biglietto, ha colto l'opportunità e con entusiasmo ha accettato l'invito. Ringraziando Argentero per l'opportunità. Ottimo. Scrivimi in DM e ci mettiamo d'accordo. Ha risposto l'attore. Questo piccolo gesto di gentilezza ha immediatamente catturato i cuori del pubblico, facendo sì che la storia si diffondesse rapidamente sui social media. La sua generosità e l'attenzione verso i suoi fan hanno reso Luca Argentero non solo un grande artista, ma anche un uomo amato e rispettato dalla sua numerosa fan base. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.